incredibile questa sera a partire dalle ore 21 e 30 appuntamento da non perdere con il primo watch party live dedicata alla teologia originale di guerre stellari tutti insieme in contemporanea guarderemo star wars e bisogna 4 una nuova speranza e lo commenteremo con voi uniti via l'iniziativa vi basterà premere play quando daremo il via la visione di gruppo basterà avere sotto mano il vostro account disney plus la vhs blu ray o un'edizione digitale del film al centro della live come sempre ci siete voi con i vostri commenti che sono essenziali per esplorare nuovamente la grande saga di George Lucas